Il pannello raffigurato indica un area di parcheggio per autovetture. Il segnale raffigurato indica la continuazione del tratto di strada sdrucciolevole. Il segnale raffigurato indica strada sdrucciolevole per ghiaccio in caso di bassa temperatura. Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto un segnale di divieto. Sdrucciolevole per ghiaccio. Sdrucciolevole per ghiaccio. Sdrucciolevole per ghiaccio. Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale solo per i veicoli rappresentati. Il pannello integrativo rappresentato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere in caso di pioggia. Il pannello integrativo è posto nei tratti di strada dove vengono effettuate operazioni di pulizia delle strade con autospazzatrici. Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla corsia possono esserci pale meccaniche al lavoro. Il pannello integrativo raffigurato indica che è vietato sorpassare gli autocarri. Il pannello integrativo raffigurato obbliga i veicoli a circolare a Passo Duomo. Ora che sono in Italia raffigurato a Passo Duomo. Si è raffigurato, come si è raffigurato, e come si è raffigurato in cui si è raffigurato il ragazzo della luna. E quando si è raffigurato, non si è raffigurato in cui si è raffigurato. Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni festivi. Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di impianti di risalita. Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna. Il pannello integrativo raffigurato va rispettato dai conducenti dei treni. Il pannello integrativo raffigurato indica l'imbarco delle autovetture sui treni merce. Il pannello integrativo raffigurato indica il pericolo di allagamento della carreggiata in caso di pioggia o forte mareggia. Il pannello integrativo raffigurato preavvisa l'inizio di un tratto di strada a senso unico. Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 7.30 alle 19.00. Il pannello integrativo raffigurato invita a usare le luci di emergenza durante la sosta. Il segnale raffigurato indica l'orario di apertura di una zona a traffico limitato. Il pannello integrativo raffigurato invita a rallentare a causa di un incidente. Il pannello integrativo in figura indica i giorni di apertura degli autolavaggi. Il pannello integrativo raffigurato indica che il veicolo lasciato in sosta può essere portato via dal carroattrezzi. Il pannello integrativo raffigurato indica la pendenza di una strada. Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di cantieri stradali con escavatori e pale meccaniche in azione. Il pannello integrativo raffigurato invita in caso di pioggia ad aumentare la distanza di sicurezza. Il pannello integrativo in figura B si può trovare sotto il segnale di curva o doppia curva. Il pannello integrativo raffigurato indica la vicinanza di un attraversamento pedonale. Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità per la presenza di macchine sgombra neve in funzione. Il segnale raffigurato evidenzia il punto in cui finisce l'area destinata al parcheggio. Il pannello integrativo raffigurato indica l'obbligo di montare le catene. Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di una stazione sciistica. Il pannello integrativo raffigurato indica che la corsia di sinistra è riservata ai veicoli che pagano il pedaggio autostradale tramite telepass. Il pannello integrativo ha fatto il bloggio adosato della collagia di sorgueso, il pannello integrativo di un abiturato indica che la corsia di sorgueso è rispettato ai avuto. Consegno è finale, il pannello integrativo di uglosione. Il pannello integrativo di un pubblico. Il pannello integrativo di one e che la corsia di un abiturato indica, però c'è stato di batteria da la scuola. Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto un segnale di divieto. Ok, mi l'ai ne vai? Ok, conferma zero errori ragazzi. Ok, conferma zero errori ragazzi.